Cari figli miei, con gioia vi ho scelti e vi guido, perché in voi, figlioli, vedo uomini di fede, speranza e preghiera. Figlioli, vi guidi la firezza di essere miei, e io vi guido a lui, che è via, verità e vita. Sono anche con voi, affinché la pace vinca in voi e aggiorno a voi, perché Dio mi ha mandato a voi per questa intenzione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti.